Hanno impiantato il primo chip nel cervello umano. Questo è solo l'inizio. È partita infatti la sperimentazione per impiantare nell'uomo la radio FM, una Fiat Panda, il mini Pimer, Giorgia Meloni. Mi guardi, onorevole Serracchiani, le sembra che io stia un passo dietro agli uomini? Papa Francesco. Tanti giovani, tanti giovani oggi che hanno qualcosa di inquietudente e non sanno... Aspetta, aspetta, aspetta. Questa è l'interferenza del citofono. Potete aprire per favore il suo citofono? Oh. Abbiamo impiantato nell'uomo il banana. Sss, ti avanza qualche spiccio. L'abbonamento a Daz. Si chiude il triangolo, Rodrigo! Il Real Madrid è uno spettacolo. I giovani fanno la differenza. Ciò è menì per Rodrigo. Aspetta, devi stare fermo sul divano, però. Ecco così, ecco così. E per finire, il traffico della tangenziale. Ok, dai, mi sembra andato tutto bene. Come si sente lei? Non c'è motivo di aggiungere nulla, il colloquio è stato, come sempre, molto cordiale. M�lue. Alla prossima.